ciao ragazzi oggi siamo in moraria per un workshop molto molto particolare vedete dalle mie spalle già delle bellissime opere siamo nell'atelier di un'artista italiana Kira che tra poco vedrete nel video volete sapere perché sono qui e cosa faremo oggi? continuate a vedere il video bene ragazzi oggi faremo le famose sardine che tutti pensano sia il simbolo di Lisbona ma le ricopreremo con pezzettini di azulejus le famose mattonelle che ricoprono i palazzi di Lisbona ci riuscirò? andiamo lei è Kira un'artista italiana a 360 gradi e pittrice ceramista e illustratrice dopo aver preso ispirazione da un libro che l'artista ci mette a disposizione non ci resta che cominciare a creare la nostra sardina non ci resta che cominciare a creare la nostra sardina abbiamo appena concluso il workshop mi sono divertita tantissimo volete vedere il risultato? ecco la mia sardina di Lisbona cosa ne dite? mi piace? sapete che potete farla anche voi? mi raccomando contattatevi o via email o mi potete scrivere in basso nei commenti del video e io vi farò vedere tutte le informazioni su workshop delle sardine mosaico con Kira ciao alla prossima! ciao a tutti! 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 ciao a tutti!